Il maltempo spacca in due l'Italia, nubi fragi e neve al nord, incendi al sud e tanto, tantissimo caldo, tanto che il sud in particolare boccheggia ormai da mesi. Finalmente però oggi si è rivista la pioggia che vedete nelle immagini di stamattina girate nel pieno centro di Piedimonte Matese. Non tanta l'acqua ma le temperature sono abbassate con un sospiro di sollievo per tutti. La protezione civile della regione Campania intanto ha prorogato la vigente allerta meteo di livello giallo per piogge temporali fino alle 8 di mercoledì 30 agosto, previsto anche vento forte sud-occidentale con locali rinforzi e possibili raffiche. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it